E' stata chiamata operazione Capestro per le condizioni di lavoro a cui erano stati sottoposti almeno 17 lavoratori stranieri da parte di una cooperativa pesarese impegnata nel facchinaggio e gestita da 6 pakistani. I lavoratori inviati come interinali in varie aziende percepivano 5 euro l'ora. In realtà però venivano pagati 9 euro. 4 euro però dovevano essere riconsegnati in contanti a fine mese ai 6 pakistani. L'orario di lavoro variava mediamente dalle 10 alle 16 ore giornaliere e le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro erano pessime. Ovviamente non c'erano tredicesime, TFR, malattie e permessi. La Guardia di Finanza di Urbino e di Carabinieri del Nucleo Ispettarato del Lavoro di Pesaro su disposizione del GIP di Urbino hanno arrestato e posto ai domiciliari 4 pakistani e notificato all'obbligo di dimora ad altri due per il reato di caporalato ossia intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le indagini coordinate dalla procura di Urbino sono partite da un esposto presentato da un'associazione sindacale. L'altra importanza dell'operazione deriva dalla novità normativa che ci ha permesso anche di fare un sequestro preventivo del profitto per equivalente per oltre 150 mila euro e la nomina di un amministratore che spero possa mantenere il livello occupazionale dei soggetti interessati. I sei pakistani avevano costituito una società cooperativa e avevano assunto e sottoposto a sfruttamento lavorativo i 17 connazionali impiegandoli presso imprese italiane operanti nel settore della componentistica per impianti di ricazione a Sant'Angelo in Vado, Lunano e Senigallia. Altro fattore fondamentale è stato quello del coraggio che hanno avuto questi lavoratori pakistani sfruttati che hanno avuto il coraggio di denunciare l'ingiustizia subita. Contiamo che altri abbiano il coraggio di collaborare e quindi di accertare ulteriori fatti. Un trattamento subito dai lavoratori richiedenti protezione internazionale perché in stato di estremo bisogno dovevano lavorare per inviare denaro ai familiari in Pakistan e per ottenere un permesso di soggiorno con un regolare contratto lavorativo. La sinergia tra guardia di finanza e nucleo speciale dei carabinieri ha consentito però di stroncare questo sfruttamento che era perpetrato nei confronti dei lavoratori sin dal 2016. In alcuni casi abbiamo avuto riscontro che si impossessavano direttamente dei bancomat su cui venivano accreditati gli stipendi e potevano con il PIN prendere direttamente e prelevare le somme che inizialmente formalmente e correttamente avevano versato. Ora altra novità assoluta in materia sul nostro territorio visto e considerato che all'interno della cooperativa gravitavano un'ottantina di maestranze con un notevole giro d'affari il giudice ha affidato la cooperativa ad un amministratore giudiziario per garantire la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori.